Mi hanno detto che avete comprato una cucina in un negozio Creo. Sì, ma vede... È inaccettabile! È inaccettabile che non mi portiate con voi. Entra in uno store di cucine Creo. Troverai soluzioni di qualità e su misura. Da oggi garantite cinque anni. Garantisce il Gruppo Lube. Agostino Montalbano, quale problema avete oggi nel caricamento dei mezzi? Che avevamo tre punti di carico, di cui due si sono fermati sia il Ferraro in Rocca e Rosse. Stamattina è rimasto solo questo, la Sites e Sovareto. Stamattina la pressione era un pochettino in più. Ora alle 10 è diminuita, diminuita, fino a che adesso si carica e ci vuole un sacco di tempo. Quanto tempo impiegate per caricare un autobot? Si tratta che per caricare un 8 meggi cubi ci vogliono 30 minuti, 35 minuti. Stamattina magari ci stava 20 minuti, poi siamo passati a mezz'ora, 35 minuti. L'autobot grande sia io che la ditta Venezia l'abbiamo dovuto posare perché venendo con il 22 meggi cubi non ce la fa neanche a riempire, arriva ad un certo regime a 15-16 meggi cubi e poi si ferma, non ce la fa più. Mentre in condizioni normali quanto tempo impiegavate per caricare sia l'autobot piccola che quella più grande? Ma l'8 meggi cubi la caricavamo in 3-4 minuti dai, nel 22 meggi cubi 10-11-12. Michele Bono, i vostri clienti aspettano e voi cosa state dicendo in questo momento? Di aspettare perché se al momento vediamo se possiamo fare facciamo, se non c'è acqua, non c'è pressione non abbiamo che fare, dobbiamo aspettare. Se dopo arriviamo stasera spegniamo domani è un altro giorno. Mi dispiace per la gente a casa ma miracoli non li possiamo fare. Il problema sembrava risolto con l'accordo che era stato raggiunto al Comune invece c'è proprio adesso una difficoltà di natura tecnica? C'è difficoltà perché non c'è acqua, dove attingiamo ci sono difficoltà per poter caricare, arriva che poi finisce e non si carica più.